Da 50 anni di esperienza a stil bagno nasce Camer. Controlli sul possesso del Green Pass da parte dei frequentatori delle piste da sci rispetto delle norme applicate contro la diffusione del virus e ancora la piega dello spaccio e del consumo di stupefacenti lungo la nostra provincia, con un particolare focus sulle aree di Morbegno, Cosio-Valtellino e Mantello. Sono questi gli argomenti in agenda trattati durante la riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, tenuta nella mattinata di ieri e presieduta dal prefetto di Sondrio, Salvatore Pasquariello. Un incontro tenuto in videoconferenza e che ha visto la presenza del questore Angelo Giuseppe Re, del Comandante Provinciale dei Carabinieri, Colonnello Marco Piras, assieme al Capitano della Guardia di Finanza, Andrea D'Alessandro e ai vertici di Polizia Provinciale e Locale, rispettivamente Emanuele Pasini e Mauro Bradanini. Presenti anche i sindaci dei comuni di Morbegno, Cosio-Valtellino e Mantello. Gran parte dell'incontro incentrato sui controlli lungo i comprensori sciistici. I controlli sono stati diffusissimi, capillari, a cura di tutte le forze di polizia. E un dato importante e significativo è questo. Non è stata riscontrata alcuna violazione delle norme che disciplinano il possesso del Green Pass. Quindi siamo tutti molto soddisfatti ed esprimiamo il nostro apprezzamento verso i fruitori degli impianti e delle piste che hanno dimostrato un senso civico altamente significativo, inappuntabile e virtuoso. Servizi di controllo che sono stati svolti nei comprensori sciistici di Valgerola, Aprica, Palabione, Palù, Valmalenco, Chiavenna, Campodolcino, Madesimo, Santa Caterina Valfurva, Bormio e Prato Valentino. Più di 500 le persone controllate, quasi nessuna delle quali è stata sanzionata. Solo tre, infatti, le violazioni contestate. Voglio anche esprimere la mia gratitudine ai gestori degli impianti, i quali la settimana scorsa erano stati presenti a una riunione che avevo convocato io insieme alle forze dell'ordine e che avevano dato la massima disponibilità, poi anche attuata nella pratica, a collaborare con le forze dell'ordine in questa attività di predisposizione del miglior controllo possibile. Quindi loro hanno fatto la loro parte, i gestori hanno fatto la loro parte e sono qui anche pronto a riconoscere il grande aiuto, la grande collaborazione che è stata offerta alle forze dell'ordine.